Buon viaggo, buon viaggo aiutano, buon viaggo al programma molto interessante. Torno di nuovo di 18 ore, 22 ore di merdia, Brunch 99. È un paese di ripartire, Tino da Palma, come per te, quella prima parte di comunque di Brunch 99, abbiamo già parlato, abbiamo già parlato, già la prima parte del 28 de Dezember del 2018, ci sono stati acostumati con la notizia che ci arriva già il risultato di un sorteo di numero negri e di numero corsova ieri ci sono stati un sorteo di numero che non ci sono il risultato ma anche se contro l'IWAC si pagano il numero si pagano un cipi cipi per direttamente e fin di anno come si sa? gli anni vuoi di un luna largo, gli anni vuoi di un luna con una pista di un luna più lunga quindi ci sono stati un po' per direttamente non fin di anno ma anche in anno come si stanno cominciando ci sono stati pendiente per ricevere il menu di restaurant Shanghai Barri Restaurant Altagracia Grill Cuyo Chachos Restaurant e anche Yoss Bar anche Andrews Catering in questo caso ci sono stati come 30 circa i nostri amici ci sono stati ci sono stati per i nostri amici con la altra di questo per fare come in questo caso lo guardiamo il numero è il numero che è arrivato il numero è il numero che è il numero di corso il numero è il numero di corso il numero è il numero di corso 7279 7279 Non è ancora comprando il sorteo di numero buoneiro, per bene non lo vanno, quindi non lo vanno non lo vanno, è un giorno nuovo mangiare una grande pizza che non lo vanno, è un giorno che mi hanno detto, vuoi buona e che mi buona buona è sicuramente lo vanno, per bene non lo vanno, è buona 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 maniera con la nostra pizza 12 minuti passato di Gesù buona messa mangiare mangiare anche Magazzina di Rei sta preparando per la ultima marcia cultural per l'anno 2018 e la preparazione che sta andando per la mangiare ci sono anche con Isain Mercer e la explica che ci sono che ci sono mangiare in Magazzina di Rei per l'anno per l'anno per l'anno per la preparazione per la prima ci sono preparare mangiare per la mangiare per la mangiare e a scassi lìmbi con c'è l'espera di un anno nuovo. A vendita è qui nel tour, avvira una tradizione, come non può fare se fa'lta. Già sabre ora, questa mattina, 29 di dicembre, lo vai tenere l'ultima edizione dell'evento con la noce di lena per l'anno 2018 qui, nel magazzine Rei, e qui è qui con il tema tradizionale di fin di anno. Costumbre per fin di anno sta per preparare diversi due douchi. Il signor Victor Ferlida lo dona un presentazione come per preparare un douchi soli passare l'anno con il. Limpia casa? No sta solamente passare passare con il mop, però è anche la preparazione spirituale per fare un anno nuovo buon venire con tutto il cos'è buon che è guardato. Il signor Letizia Leti Bumont lo comparte che c'è l'altro che ho tenuto con il, ora vota senza buon caso. Anche per questo uso di opportunità per visitare una buona exposizione toccante di ricchezza culturale del barrio di Rincon, cercano a noi, nel magazzine Rei. Tu resti qui, di un douchi ambiente con presentazione live, e via qui di agrupazione Tutti Frutti con una exitona di anno qui, però a la vez por goza di differenti cantica di fin di anno, con una preparare specialmente per la temporada di anno. Di mesi, è parecchi di baiola Doni e Monico in Clare lo tei, per deleitarnos con un baile non folclorico. Marche che io io non perché da fu, con il suo prodotto non fresco e local, maniera che il popolo a acostumbrano con il. Lo bai ti, entre otro, juice natural, chocolate di pinda, cose duce, arte locali e rupi masi. La cucina sta abri fuori di 10 ore di mainta, con il plazzo non suculento, maniera cabriti stovà, galini stovà, cabezco e igra, e paquenta stoma, lo ti un buon swap di cabriti masi due mesi. E via qui cucina lo ta nel encargo di Ralf Santiago. A me lo avisa, pambrassar, celebrar e compartir nos duchicultura na nosilea già sabra ora, manhã 29 de december e 8 ore di mainta teco 2 ore di merdia na magazine rei. Pa' un programma mas detallare por visitar a Facebook fanpage di magazine rei. Assinata, bimba nos turbin goza, pa' otro timbin contabu con duchinang apasa. Correctamente, mi embolegabo bai toca Izein cimpun trabo con bai to anja 2018 pa' magazine rei. Well, mi tengo bisa, anja che tava datin surreto, non? Pero tava da un anja che tava datin a hopi crescimento, hopi avance, me tava hopi agradecido, non solamente na putura, no sponsor, non? acordar ribadje e purva di mes revivar na cada oportunidade que presenta de periodo de anja. Mi te imagina que reto que vos anta batin tambe durante anja 2018 tá pa' atraje más turista tambe bobin en marxa cultural. Si, un dia reto na enverdad tá Ezei e nos lo vai foca es aqui tambe de en 2019 pa sobra sin ataco en el local mes ya es aqui ya acaba pananga vira un costumbre, pero si nos lo tengo bigana verdad de atraer más tantos visitantes cual turista e nos ta espera que en 2019 nos lo haja no solamente apoio de nos pueblos mes, pero a la vez tambe de diferente otro sponsor tambe cuore nos acercan pa sen ayudan nos engrandecer saque ya en na jafona tambe por mira que duxicultura nos tinga aqui na Buneiro pa sen tambe por experienciar e parte aqui. E pro me marxa pa año 2019 tabaita riba que fecha? Dia 26 de anuari cualta el lazo ya sabra de luna y tema ya que lo va a virar arquitectura y tambe familia que me dame cada año no está para que turismo desarrollo sea cultural familiar o sino no es que hace algo de dirección de construcción o sobra siempre ya y hasta funde la no si a vez sin entonces ya más bien es un tópico tocante de un hogar que me de familia hogar así así también para el primer marzo de año 2019 si con tiempo también nos lo va a papi también si con que ya sabra está llegando y si me deseamos un feliz cambio de año para vivir familia también para el marzo de de rey también nos que extend nos máximo agradecimiento para tú tú no solamente nos sponsor pero una vez más en particular pueblo de boneiro y nos deseamos cada un feliz día de fiesta va a esperar que todo lo que estaba de bom va a con él en 2019 la gana todo lo que estaba mal atrás y 2008 que det atrás y naturalmente magazine rey siempre lo te guardaba durante nuestra ley de 2019 no lo hago otro bingosa cuando me contaba con dos que pasa es isaín mercera de magazine de rey que nos conversamos con él pues es un pueblo de boneiro que invitó para drop in una magazine de rey que tiene última marx cultural en el año 2011 y escucha también sobre nuestra punta isaín y más para 2019 que lo va está y se se hace 26 de an de el último ya sabrón de luna de de 2019 pues mañana con Dios que pasa a en magazine de rey para sobre esta opa porque es bueno está bait para make a break 19 minutos de des nos acabamos dirigir aquí un especial de chachos restaurant que es especialista del plato de la situada con papacornés que es de lagun y el chachos restaurant de special mochi de mula tambien nantin pizca sal con tutu y ave nada prepara un sopi especial ave nada prepara un sopi especial sopi di caicay sopi di caicay 717 0206 pedido o popo queda comina en medio ambiente aire condicion ese está chachos restaurant para ave ave sin nantabry que mendi drop in cerca chacho y su crew son un buen momento para nos ve un break de en bo bruin 29 hora con su back a mato y u bilote para así continuar que programa de ave a creer el vibe que yo soy lucida Ana borracha life 29.9 FM no pod ubi dar tempo kita bata de nature con os a n ron para celebrar e feste ron con son l no br br si mira algo llama nos mensura rádio live 99.9 FM rádio 100% escuchar e gustar a m de sábado 6 para 8 e domingo 10 para 12 join nos de ambiente que vale son completo an eso un saludo no si comando también para tu repiscador ahí tú estás en sintonía de live no 29.9 com bol la tua tua piscadona arriva la manga il garcia non ha un trabato la tua piscadona 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 la piscadona la tua piscadona la 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 piscadona Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti.